Sono parlando, prof, prof, mi fa una foto, eh? Il tuo arriverà sul primo binario, o su te? Probabilmente ci sono i binari, ma io ci sono già venuti qua, prof. Bene. Siamo un po' pieniti, ho sbaglio. Ciao ragazzi! Ma è l'acqua, l'acqua ha scavato una valle profondissima. Il lago di Como sarebbe profondo mille metri, però dopo l'ultima glaciazione il ghiacciaio ha trasportato tantissimi detriti e l'ha riempito per circa 600 metri. Milano! Sì, no, di Davide. Sì, no, di Davide. Oh! Ciao! Vai, vai! Siamo! 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 La pendola, 15 minuti, ci siamo ragazzi. No, non ci sono qui, ci sono in certi ospedali o in certi paesi. più domani, più domani, più domani, più domani. Adesso ci sono anche dei due. Gravissimi! Siamo pronti? Siamo! 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 È la terza. È quella che ha ragione. È quella che ha venuto Guadagnone e poi voi parlare. È un show proprio in virgine a stata,cymene molta burratura. Sì, si garantisce tor Bene. Siamo! S WOR recovering here! Siamo! 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 Yeah! Siamo! Siamo! Sì, 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 sì. 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 Sì, sì.